Chissà che sarà, lo scopriamo adesso incontrando il prossimo concorrente. Che bello, tutto colorato. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Lei è il signor? Francesco Giancaspro. Francesco Giancaspro da? Bari. Da Bari. Sono nato precisamente a Molfetta. Esatto, per essere precisi. Chi sarà poi a raccontarci tutto il resto della sua vita, mio Francesco? Una delle mie nipote. Chi si chiama? Anna. A lei la parola, Anna. Mio zio Francesco faceva il lavapiatti, ma poi ha deciso di buttarsi nella musica. Ha inciso vari cd e prova in tutti i modi a diventare famoso. La sua fonte di ispirazione sono le donne e ce n'è una in particolare che ne fa passare di tutti i colori. Ma lui non si offende e la saluta sempre, anche stasera. Ed è pronto per affrontare la botola. Grazie nipote Anna, grazie. Come si chiama il brano che è stato contato? Ciao ciao, Lulu. Forza, ciao ciao, Lulu. La prima donna mi lasciò perché un muratore lei non lo voleva. La seconda mi lasciò perché sua madre non era fiera di me. Ciao ciao, ciao ciao, Lulu. Ciao ciao, ciao ciao, Lulu. Ciao ciao, ciao ciao, Lulu. Nel tuo cuor non ci so più. Ciao ciao, ma prima ritornò da me. Con quattro figli avuti da un muratore è ritornata da me e anche Lulu. Ma Lulu è l'amore di Umberto Tozzi. Ciao ciao, ciao ciao, Lulu. Ciao ciao, Lulu, Lulu, Lulu. Ciao ciao, ciao ciao, Lulu. Nel tuo cuor non ci so più. Ciao ciao, Lulu, ciao ciao, Lulu. Ciao Lulù, ciao ciao, nel tuo cuor non ci sono più. Tengo, grazie, a tra poco. Si mette il giubbotto Francesco, voto acquisito, bene, la botola, la botola sta per parlare, ma viene anticipata dalle percentuali, 27%, uno dei due sta per uscire di scena con questo risultato così basso, vediamo chi, botola. Oh, che peccato, arriva Francesco per Mary. Grazie comunque Mary, grazie, ciao, grazie, la passione è stata comunque premiata dall'applauso e dal voto, ma vince Francesco Giancaspro con la sua ciao ciao Lulu, era meglio essere rassicurati da Santa gente. Si accomodi Francesco, secondo finalista della serata e adesso mentre lui si rilassa un attimo ci godiamo la terza manche. Ciao, ciao, ciao Lulu. Adesso qual è la percentuale più bassa tra i tre finalisti? 11%, questa percentuale riguarda tutti e tre i finalisti, ma ovviamente appartiene ad uno dei due che sono sulle botole in questo momento. Chi si è beccato questo 11%, chissà, beh lo scopriamo subito, botola. Ciao, ciao Francesco. Tutto a posto Francesco, bravo e grazie, simpatico, fino alla fine, eccola la sua caduta. Quindi.